bella a tutti bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi dobbiamo gt5 allora facciamo una rapina o qualcos'altro poi si vedrà basta che non faccio incidenti così facciamo veloce veloce allora allora visto che ho dovuto fare tutta la storia da capo perché mi ero dimenticato di mettere il profilo quindi ma tutti ho perso quasi tutto l'elicotteri e tutto però me li sono rifatti prima che facevi il video perché non c'erano soldi perché non c'è soldi mo ho spesso tutti i soldi per modificare la ferrara e la lambo comunque facciamo stare la fine ma la troppo lenta alla macchina di michael questo è di michael si se sentite ballare è mia sorella non la pensate ok lo passiamo dal retro abbiamo un po di denaro allora mi nascondo qui dentro raga ok ma raga va bene il video finisce qui spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao